Siamo contenti perché era una partita che aveva tante insidie, intanto giocare il giovedì sera per delle ragazze che non sono delle professioniste non è facile, avevano avuto tutta una giornata abbastanza impegnativa e quindi le insidie c'erano tutte parti. Abbiamo fatto, abbiamo espresso un bel gioco, abbiamo potuto ruotare un pochettino tutti, mi dispiace per Ilenia che ha avuto un piccolo infortunio, speriamo non sia niente di grave, adesso valutiamo un attimino cosa è successo, però il bilancio è sicuramente positivo. Adesso, praticamente settimana prossima, ci sarà il derby cittadino contro il Cus. Sì, il derby cittadino, è una squadra che conosciamo, abbiamo incontrato diverse volte anche in amichevole e speriamo che sia una bella partita intanto perché Messina merita un po' di buona palla a bolo, tra l'altro in un momento in cui la palla a bolo a Messina c'è e c'è anche di alto livello. Noi al solito, io ho sempre detto, lo ribadisco ancora anche questa volta, continuiamo a lavorare e vediamo di settimana in settimana la crescita che oggi ho visto, che vedo praticamente sempre in settimana, quindi speriamo di esprimere un bel gioco anche nel derby.